Siamo qui a Scetica, che è il paese natale di Don Enzo Ghirelli, nel ricordo di questo carissimo sacerdote, nel cinquantesimo della sua ordinazione, proprio avvenuta nel giorno dell'ascensione di 50 anni fa, nella cattedrale di Fiesole. Ci sono i suoi familiari, ci sono i parrocchiani di questa realtà, ma c'è anche tanta gente che viene da diverse parti perché Don Enzo ha esercitato con tanto amore veramente il suo ministero sacerdotale, nel servizio di Dio e nel servizio dei fratelli. Dice il Concilio che la caratteristica del sacerdote è la carità pastorale e veramente Don Enzo ha esercitato questa carità pastorale consolando confortando tante persone.